La nota che andiamo a leggere emanata dall'assessore al turismo e grandi eventi del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, nel tardo pomeriggio. A causa delle avverse condizioni meteo attuali e previste per la giornata di domani, sabato 16 luglio, l'amministrazione di concerto con i tanti artisti, l'attività e tutte le persone coinvolte, seppur a malincuore, ha deciso di rinviare la notte bianca dell'Adriatico. Siamo tutti al lavoro, prosegue l'assessore Cuzzi per fissare la data del recupero che sarà quella di domenica 24 luglio e riuscire a garantire anche quest'anno una serata indimenticabile di allegria, divertimento e spensieratezza. Ci scusiamo con tutti per il disagio, d'altro canto siamo sicuri che sarebbe stato un peccato far svolgere la manifestazione in condizioni non ottimali e con il rischio di doverla sospendere per le avverse condizioni meteo.